ciao a tutti ragazzi bentornati da carmi special siamo con la guida all'assa di riparazione si mi avete convinto la sto pubblicando prima del 31 la dividerò in diversi video questo è una sorta di video preliminare ci sono alcune cose che vi devo alcune indicazioni che vi devo dare appunto prima di partire poi con i fantaconsigli dove analizzerò ragazzi giocatore per giocatore squadra di serie a per squadra di serie a quindi per ogni squadra partendo appunto dall'atlanta quindi in ordine alfabetico vi darò l'indicazione le mie sensazioni su ogni singolo giocatore utile o non utile al fantacalcio ok quindi mi raccomando non perdetevi questi video anzi supportateli con tanti like commenti soprattutto e a tal proposito nei commenti scambiatevi un po di opinioni cosa voglio dire voglio creare una community che appunto si oltre che magari chiedere il mio parere potreste appunto scambiarvi voi dei consigli ovviamente con educazione cioè non dovete dare per scondato che tutti abbiano la stessa esperienza magari c'è qualcuno che ha iniziato a fare il fantacalcio quest'anno altri invece che lo fanno da molti anni e proprio loro potrebbero aiutare magari gli altri fantallenatori quindi scambiatevi con educazione dei pareri qua sotto nei commenti sarebbe una cosa secondo me carina attivare ancora di più questa community e tal proposito vi ricordo che in descrizione trovate il link per scaricare one football applicazione che vi tiene aggiornati sul mondo del calcio utile anche per i fantallenatori per stare come detto aggiornati sul calciomercato soprattutto in questi ultimi giorni è importantissimo potete monitorare i vostri giocatori sia dal punto di vista delle notizie sia anche per quanto riguarda le statistiche insomma c'è di tutto e di più vi lascio il link per scaricarla gratuitamente in descrizione oggi di cosa parliamo parliamo di alcune cose che vi saranno utili nel comprendere bene i video che vi porterò già da domani dove analizzerò tutti i giocatori e a fine video alcuni punti che vi mostro oggi sono anche utili a prescindere cioè utili per la vostra preparazione dell'asta del fantacalcio l'asta di riparazione ovviamente una cosa molto importante è andarsi a recuperare i video che vi ho pubblicato già quest'anno con alcuni consigli guida dove appunto vi ho dato alcune dritte in preparazione appunto all'asta di riparazione ma anche quelli degli anni passati perché anche i consigli che vi ho dato per le astre di riparazione degli scorsi anni sono comunque consigli ancora validi e utilissimi quindi mi raccomando soprattutto i nuovi iscritti andatevi a recuperare i video vecchi li trovate ovviamente sul canale soprattutto vi può essere molto più facile andare nel a vedere la playlist ok le playlist guida l'asta del fantacalcio ad esempio 2018 2019 2017 2018 forse trovate anche quella 16 17 perché faccio ormai fantaconsigli da una vita veramente sono stato uno dei primi canali sul fantacalcio detto questo partiamo dal primo punto ok di questo video e si ricollega strettamente al discorso dei video vecchi infatti il primo punto è la terminologia cosa voglio dire per capire bene alcune indicazioni che vi darò nei video di domani non so in quanti episodi lo dividerò probabilmente forse addirittura farò quattro video due al giorno uno all'ora di pranzo uno poi nel tardo pomeriggio vedremo quanto lungo sarà diciamo ogni video perché fare l'analisi per ogni singolo giocatore c'è un lavoro ragazzi veramente enorme e sarà importante la terminologia cioè conoscere la terminologia che io utilizzo nel canale gli iscritti ormai di vecchia data in questo saranno molto facilitati perché ormai sanno a cosa mi riferisco quando dico un determinato termine io sono un po particolare da questo punto di vista cioè magari dico un termine che per chi non mi segue può significare una cosa mentre per chi mi conosce bene sa magari a cosa mi riferisco vi faccio alcuni esempi quando parlo ad esempio di jolly ok i miei iscritti sanno soprattutto chi ha seguito già la guida estiva sanno che mi riferisco un giocatore ad esempio da poter utilizzare magari come quarto slot dell'attacco che magari puoi utilizzare spesso perché è uno che prende buone valutazioni e può portare un buon numero di bonus ma che di partenza non dovrebbe essere comunque uno dei tre più forti attaccanti che hai nel tuo reparto ok quindi come quarto o quinto slot puoi avere un jolly questo questo è quello che intendo quando bisogna conoscere la terminologia per chi magari è nuovo quindi consiglio di andarsi a rivedere un po i video vecchi anche d'estate anche per vedere magari cosa ha azzeccato cosa non ho azzeccato perché molti giocatori fino ad ora hanno flopato soprattutto magari al centrocampo però mi raccomando appunto cercate di capire magari soprattutto per chi è nuovo alcuni termini e il significato che io adotto altri esempi possono essere titolare scarso dove non intendo ovviamente un giocatore scarso ma un giocatore che ha come caratteristica principale fantacalcistica l'essere titolare anche di una piccola squadra ovviamente che costi quindi poco all'asta ma che come caratteristica abbia la titolarità ed è l'unica vera utilità che ha diciamo al fantacalcio poi magari può portare bonus o meno ma l'importante è che sia titolare che costi poco quindi mi raccomando cercate di andarvi a ripassare un po la terminologia poi secondo punto un'altra cosa che vi sarà utile è cercare di capire la lega di riferimento io infatti quando vi do dei fantaconsigli nella guida cercherò di essere il più generico possibile vi darò un po di indicazioni per alcuni giocatori un po particolari vi faccio un esempio in alcuni casi per i difensori citerò alcune caratteristiche buone per il modificatore di difesa oppure per alcuni giocatori vi dirò che è più adatto a leghe molto numerose quindi a 10 o più partecipanti oppure per alcuni giocatori vi dirò che è utile se nel vostro regolamento potete fare diverse sostituzioni avete una panchina lunga insomma per alcuni giocatori specificherò magari qualche caratteristica per una lega un po specifica ma nel complesso cercherò di essere il più generico possibile quindi dovrete essere poi voi a fare il riferimento alla vostra lega mi raccomando ragazzi cercate poi di adattare tutti i fantaconsigli alla vostra lega perché come detto ma ne parleremo in un punto successivo ogni fantaconsiglio non è per forza adatto a tutti cioè ad un fantallenatore può essere effettivamente utile quel giocatore magari perché si trova in una lega molto numerosa mentre ad un altro fantallenatore in una lega quindi con meno partecipanti quel fantaconsiglio non serve perché quel giocatore non sarà molto utile può avere benissimo altri giocatori più forti ok quindi mi raccomando state attenditi da questo punto di vista e cercate di capire la lega di riferimento per ogni singolo giocatore ovviamente cercando di riferirla soprattutto alla vostra e di capire se quel fantaconsiglio vale per la vostra lega mi raccomando poi passiamo al punto 3 dove ovviamente ho messo le sensazioni personali cosa voglio dire ovviamente tutta la guida è basata su mie mie sensazioni personali siccome è stata basata quella estiva dove posso dire che è andata anche piuttosto bene se consideriamo soprattutto la strategia che vi ho consigliato dove vi ho detto di stare attenti a non spendere troppo per magari centrocampisti top ma di creare un centrocampo un po' equilibrato e invece farvi un attacco forte e nel complesso spero ci siate riusciti soprattutto a prendere il primo slot tra i migliori ovvero uno tra CR7, Immobile, Lukaku e forse anche Duman Zapata ci poteva rientrare però i primi tre erano quelli che ho messo a un prezzo molto più alto quindi spero abbiate seguito questi suggerimenti ma in ogni caso sono sempre sensazioni come detto personali poi ovviamente dovete mescolare magari le mie sensazioni con le vostre cioè dovrete capire se effettivamente le mie sensazioni sono magari utili nel caso della vostra fantarosa e se vi potrebbero appunto servire come detto però sono semplici pronostici quindi potrei effettivamente sbagliare sulla valutazione di alcuni giocatori un esempio è stato Suso magari quest'estate aveva fatto molto bene nel precampionato con Gian Paolo giocando anche da trequartista io l'ho valutato abbastanza bene però mi sono sbagliato ho avuto sensazioni poi sbagliate anche perché non ha reso bene cambiando modulo, cambiando poi allenatore insomma non è stato per niente utile al fantacalcio quindi queste sensazioni potrebbero essere effettivamente sbagliate l'importante è che voi le prendete con le giuste pinze passiamo a questo punto al punto 4 scusate il gioco di parole ed è lo studio della Lega vi ho detto in qualche video precedente spero l'abbiate già visto che bisogna fare comunque sia lo studio della propria Rosa ok? sia lo studio della propria Lega dove appunto dovrete comunque capire come si muoverà innanzitutto il regolamento che tipo di regolamento avrete per gli scambi e per l'assa di riparazione il diciamo il modo in cui si potrebbero muovere i budget dei vari fantallenatori cioè quelli che hanno al momento più gli eventuali svincoli e quindi anche capire come gli altri fantallenatori potrebbero muoversi all'assa di riparazione quindi che tipo di giocatori potrebbero andare a prendere capire appunto se in base al numero di partecipanti se siete 8 o 10 o anche di più quanti fantallenatori punteranno su un determinato reparto e quindi su un tot di giocatori e quindi saprete un po' meglio come muovervi e come valutare i miei fantaconsigli anche perché come detto nel punto di prima Lega di riferimento è importante farlo a priori cioè se non l'avete ancora fatto fatelo soprattutto magari oggi così i fantaconsigli che vi darò già da domani potreste appunto segnarveli meglio capire un po' meglio se effettivamente quel giocatore che vi consiglio è utile nella vostra Lega o meno oppure se qualche fantallenatore della vostra Lega lo punterà sicuramente o no ok quindi attenzione a questo aspetto perché magari nella vostra Lega c'è uno che ha un determinato giocatore lo vorrà copiare con uno che è ancora svincolato quindi voi direte ok io so che quel fantallenatore probabilmente punterà a quel giocatore quindi mi sarà difficile andarlo a prendere va bene state attenti fate già adesso lo studio della vostra Lega oltre che della vostra Rosa e a tal proposito dello studio della Rosa mi ricordo l'ultimo punto se non quello forse più importante il profilo dei giocatori questa è una cosa che non molti fanno infatti è un procedimento inverso cosa voglio dire con profilo dei giocatori quando noi andiamo a studiare la nostra Rosa pensiamo magari e pensiamo all'asta di riparazione andiamo direttamente a vedere la lista svincolati diciamo ah guarda questo è forte questo è forte questo lo potrei prendere questo mi potrebbe servire questo lo voglio perché potrebbe portare un buon numero di bonus e poi vediamo all'asta di riparazione chi acquistare beh io vi consiglio anche un procedimento inverso ovvero partire dallo studio della vostra Rosa e senza pensare i giocatori che ci sono nella lista svincolati prima pensare il tipo di profilo del giocatore che vi serve voi andate ad analizzare un reparto e dite ok io fino ad ora ho avuto determinate difficoltà perché appunto magari in alcuni casi ho giocato in 10 uomini quindi la mia difesa ha bisogno di un po' un bel po' di titolari ok inamovibili e allora studiate il profilo ad esempio di difensore titolare inamovibile ok senza pensare a quali giocatori andare a prendere pensate a quel profilo dopodiché andate nella lista svincolati e vedete un po' quali giocatori ci sono che rispettano quel profilo magari ce ne sono diverse quindi avrete diverse opzioni valuterete poi in base allo studio della Lega quanti fantallenatori hanno bisogno eventualmente di quel profilo e capirete un po' come muovervi all'assa capite questa cosa è importantissima lo studio del profilo del giocatore che vi serve è ancora più importante dello studio della lista degli svincolati perché è il punto secondo me di partenza ciò che vi serve veramente nella vostra fanta rosa poi per chi ovviamente ha una rosa abbastanza solida questo lavoro sarà più semplice perché potrebbe effettivamente puntare sulle scommesse oppure buttare un po' più crediti nel singolo slot che magari gli serve rimpiazzare va bene ovviamente tutto dipende da come avete costruito la vostra rosa in estate detto questo io spero di esservi stato utile con queste dritte le prime semplicemente per capire un po' i consigli che ci saranno poi già da domani gli ultimi invece per fare lo studio la preparazione ottima della della stella di riparazione a prescindere che poi seguiate o meno i miei consigli ma questa questa analisi della vostra rosa della vostra Lega va fatta a priori ragazzi me lo consiglio perché vi aiuterà tantissimo nel prevedere un po' anche le mosse degli altri fantallenatori e essere anche realistici sugli acquisti che potrete fare va bene detto questo vi ricordo tutti i link in descrizione i miei social li trovate appunto qua sotto il link per scaricare OneFootball mi raccomando link in descrizione e ci vediamo come detto domani già con il primo episodio della guida partiremo appunto con l'Atalanta e altre squadre giocatore per giocatore c'è dietro un lavoro pazzesco quindi mi raccomando sostenete anche questo video con tanti like e in descrizione o meglio nei commenti sbizzaritevi dandovi anche dei consigli e soprattutto fatemi capire che tipo di mosse farete all'asta cioè se dovete rivoluzionare la rosa o semplicemente magari andare a fare qualche ritocchino perché voglio vedere anche in base e ditemi anche da quando siete iscritti al canale perché voglio capire se effettivamente chi è iscritto dal canale da un bel po' ha solo qualche ritocco da fare alla fantarrosa mentre magari chi è iscritto da poco forse ha più mosse da dover fare ovviamente poi c'è sempre di mezzo alla sfortuna infortuni tra servimenti di mercato che vanno a condizionare il tutto però voglio un po' vedere come si sono mossi i miei iscritti detto questo vi auguro veramente buona fortuna e ci vediamo come detto domani ciao ragazzi grazie a tutti grazie a tutti